Low cost abbigliamento si colora d'estate, una nuova collezione uomo-donna tutta colori, allegria e gioia di vivere. Tagli stramoderni, pantaloni e giacche uomo, particolarissimi, camice fantasia per tutti i gusti, ovviamente a prezzi pazzi. Come l'offerta tre paia di jeans uomo-donna a soli 49,98. Anche per la donna grande scelta fra giubbottini estivi, pantaloni moda color pastello per abbinamenti esclusivi, maglie e camice ma soprattutto vestitini davvero chic. È tutto a partire da 39 euro a 139 euro per i vestitini. Ricorda, low cost veste anche le taglie forti e fortissime. Vieni a trovarci a Sassari, Red Daniela, Strada 28.